Oggi è giovedì 13 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 13 giugno 1983. La sonda spaziale statunitense Pioneer 10 supera il confine del sistema solare, divenendo il primo oggetto costruito dagli esseri umani a compiere il salto nello spazio interstellare. Lanciata nel 1972 da Cape Canaveral in Florida, un anno dopo la sonda fa giungere a terra le prime immagini ravvicinate di Giove, rivelandone la natura prevalentemente liquida e compiendo studi sul suo campo magnetico. Nella eventualità che la sonda possa essere intercettata da intelligenze extraterrestri, vi è stata applicata una placca in alluminio anodizzato con oro. Riporta il disegno di un uomo e di una donna nudi di fronte all'immagine di Pioneer 10, per dare l'idea delle proporzioni, lo schema del sistema solare con l'indicazione del terzo pianeta, la Terra, la rappresentazione del numero binario 1 e dell'idrogeno. La missione è stata ufficialmente dichiarata terminata nel 1987, ma Pioneer 10 ha continuato a trasmettere fino all'ultimo flebile segnale ricevuto a Terra il 23 gennaio 2003, quando la sonda si trovava a 12 miliardi di chilometri di distanza. Se non incontrerà ostacoli, Pioneer 10 raggiungerà la stella Aldebaran tra due milioni di anni. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli artisti e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.